Dino Ambrosino, oggi in Consiglio Comunale un momento importante per l'approvazione del bilancio e per un altro aspetto sul quale si è discusso molto, cioè l'incremento della tassa di sbarco. Sì, abbiamo stabilito di applicare 3,50 euro da qualche settimana a questa parte nei mesi estivi e 2,50 nei mesi invernali per cercare comunque di rimpinguare un po' le casse rispetto al problema dell'aumento dei costi della spazzatura. Siamo arrivati a 3,6 milioni di costi della spazzatura, riusciamo a recuperare con la tassazione 3,1 milioni, quindi c'è un delta e ci facciamo aiutare da chi sbarca a Procida con questa una tantum che alla fine, penso, nell'economia di una vacanza non è che gravi molto. L'approvazione del bilancio ha mostrato anche gli incrementi o comunque i contributi arrivati da Procida 2022 che si conferma, ci sembra di capire, un investimento riuscito. Assolutamente, abbiamo approvato il consuntivo del 2022 che ha raccontato di questa esperienza anche economica di capitale della cultura perché per il Comune di Procida ha significato un punto di svolta straordinario, considerato che fino adesso abbiamo sempre avuto difficoltà economiche e grazie a Procida Capitale non solo abbiamo messo una serie di spese ordinarie a carico del progetto ma oggettivamente abbiamo l'incremento del contributo di sbarco arrivando a quasi un milione e quattro che abbiamo previsto per l'anno 2023 proprio in virtù della promozione che ci ha fatto capitare della cultura perché c'è stata una grande visibilità per Procida, persone che sono venute, persone che torneranno e inviteranno a venire altre persone, quindi moltiplicata per il contributo di sbarco questa massa di persone ci aiuta non solo a gestire il servizio rifiuti ma anche a recuperare i debiti che il Comune ha fatto in precedenza. Un altro aspetto importante sottolineato durante la seduta del Consiglio, le fasi della votazione ha riguardato la tassa dei rifiuti solidi urbani che siete riusciti a non toccare. Sì, sono otto anni di amministrazione, non l'abbiamo mai ritoccata, questa è una cosa importante perché ci guardiamo intorno e dovunque ci sono degli aggravi, degli aumenti, oggettivamente tutti i costi sono aumentati, per esempio l'energia elettrica di cui ben sappiamo, ma anche banalmente il pagamento dei lavoratori perché in otto anni scattano comunque dei nuovi contratti collettivi nazionali, ciò significa che i lavoratori costano di più alle aziende e le aziende vogliono di più dai comuni. Sapete ciò di cui parlo perché per esempio il Comune di Napoli sta decidendo un aumento, si parla addirittura del 20%, quindi molto significativo dopo che l'ultimo l'avevo fatto 4 anni fa, quindi il risultato di Procida in confronto agli altri è ancora più apprezzabile.